I miei comici sono molto tristi. E Paolo Villaggio era in realtà una persona triste, quindi? Ma era sempre sulle sue, aveva un caratteristico di chiuso un po'. Perché lui, io sapevo già che non stava tanto bene, che era ricoverato, sapevo che era diabetico lui. Che ricordo ha di Paolo Villaggio? E' un ricordo buono, perché ha fatto 8 film con lui, 40 anni, poi ci siamo visti l'ultima volta, sul cappetto rosso del cinema di Roma, io Villaggio e la signora Anna Massamaura. Poi, no, siamo stati cordiali, amicizia, un'amicizia un po' superficiale, capito? Però era molto bravo come attore. I ricordi sono tutti belli, nelle battute, nelle scene, no, non è bello, i primi anni, i primi anni all'80 erano belli, poi lui si è un po' invecchiato, capito? Però non abbiamo la stessa età, i comici sono molto tristi. E Paolo Villaggio era, in realtà, una persona triste, quindi? Ma, si è messo le sue, aveva un carattere così chiuso un po', un po' le battute così. Ma, inizia, andiamo ad accordi con lui. Grazie a tutti.